Benvenuti in questo nuovo video, oggi con me abbiamo Daniel, Davidino e Marte che avete già visto nel video qua in alto a destra con Simone che rotola. Oggi siamo ospiti a casa loro e niente speriamo di lanciarla bene. No, 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 no. Ohhhh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh! Oh! Ah che io sto improvvisando Non so dove andare Una strada Una strada Oh! In realtà ti dovresti muovere quindi scaldare Infatti no Le dita invece sono andate Non so Lo sto stringendo bene le mani Oh! Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi raccomando se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.